Corso anno nella categoria amatori, terminò sesto e da parte vinto per i colori Abruzzo esiste, Luigi Capriotti messo in squadra, Abruzzo dallo sesto equip Nicolás Tendenza e l'Abruzzo è attualmente quarta nel computo a squadre e poi il primo gol Vai Ceni! Vai! 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 Piano! Vai! Vai! Prolendi da percorrenza! Ma la stagli qualche secondo! Piano! C'è la catenella! C'è la catenella! Mi sono toccata la catenella! E' un problema! E' un problema! E' un problema! Piano! 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 Sì, 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 Sì Sì, Sì Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sono 15 secondi di penalità, 3, 16 e 15 per Gianluigi Capriotti e ora 412 a partire